In questa occasione vorrei esporvi alcune considerazioni sull'autostop ricevuto da Anna, nome di fantasia, nel settembre del 1985. Io ho voluto effettuare una ricerca su questo episodio riportato da Paolo Cocchi perché ho ritenuto interessante approfondire la vicenda di Anna, ossia l'allora diciottenne che ricevette un cito testuale dell'articolo pubblicato da Paolo Cocchi su Occhè Mugello, un inquietante passaggio in autostop da un signore che, come descritto da da Cocchi anche nel suo libro e nei suoi articoli, era a conoscenza di una circostanza che nessuno poteva sapere nel momento in cui avvenne appunto l'episodio del passaggio in autostopo sia fra le 13.15 e le 15 del 26 settembre 1985. Così ho deciso di intraprendere una ricerca ed un'analisi sui fatti accaduti. Perché? Perché dal momento che viene indicata la seguente informazione molto intrigante. Anna è certa che quel misterioso uomo abbia parlato di lettere inviate ai magistrati con dei feticci in una data e in un orario antecedente alla divulgazione giornalistica, quindi quando nessuno, tranne il mostro, un paio di giornalisti e gli inquirenti, ne era conoscenza. E ancora, nessuno fino alle 15.27 del 26 settembre 1985 sa ancora della lettera inviata alla dottoressa della Monica, a parte gli inquirenti, un paio di giornalisti e l'autore della missiva. Capite bene quindi che valeva la pena approfondire la questione. Di fronte ad una circostanza del genere, ossia che l'uomo che diede il passaggio ad Anna potesse essere in qualche modo coinvolto nel caso del mostro di Firenze, personalmente ho trovato interessante andare a fondo sulla vicenda. Quindi sono partita con la ricerca seguendo il mio metodo di analisi. Metodo che peraltro non mi ha insegnato nessuno e che è frutto della mia inclinazione acquisita peraltro negli anni anche grazie alla mia professione. Nello specifico, quando intraprendo una ricerca, la prima cosa che faccio è andare letteralmente a caccia di quanti più dati possibili sulla notizia, reperto, episodio da analizzare. Questo primo approccio talvolta mi richiede molto tempo, però è necessario per avere un quadro della situazione il più ampio e prospicuo possibile. E quindi, trovati tutti i dati a disposizione, li ho inseriti in un report, proprio a modi lista della spesa per intenderci, ossia ho organizzato una vera e propria raccolta di tutte le informazioni utili, citazioni e fonti intercettate online su testi, rassegna stampa o attraverso interviste. Una volta terminato il report, il secondo step è stato quello di catalogare, soprattutto in ordine cronologico, e approfondire ogni aspetto di ogni informazione assimilata. Nel mio procedimento anche il più piccolo dettaglio è fonte di indagini e ricerca, per cui a un certo punto il mio report si amplia fino a diventare un vero e proprio screening di note e considerazioni. Riordinati tutti i dati, ho preparato un rapporto finale composto dalle conclusioni di tutti i risultati della mia ricerca. Risultati che potevano sfociare nella conferma dell'autenticità del dato originario oppure al contrario escluderlo perché è non utile ai fini dell'indagine. Mi capita spesso che una ricerca durata anche mesi non porti a nulla, però è vero anche che se non si fa ricerca non si può ottenere alcun obiettivo. Per fortuna quando invece il risultato è positivo, la ricerca può risultare utile a fare perlomeno un po' di chiarezza. Ecco, io ho voluto descrivervi il mio procedimento perché questo peraltro è il metodo che ho utilizzato anche per arrivare alla rivista utilizzata dal Mostro di Firenze. Ricerca che è durata quasi due anni, dal 2018 al 2020, che prima di condurmi alla rivista Gente mi ha costretto a scandagliare dapprima altre riviste per poi arrivare a Gente. Tengo a precisare che nessuno mi ha indicato o suggerito la rivista Gente, motivo per cui ho impiegato del tempo dapprima sull'analisi di ABC e poi su un'altra rivista, Cronaca Vera. L'impostazione della ricerca della rivista utilizzata dal Mostro non mi è stata né suggerita né tantomeno insegnata, non ho avuto alcun maestro in tal senso e la scoperta della rivista è semplicemente il risultato del mio metodo abbinato al privilegio di aver ricevuto da Paolo Cocchi il reto dei ritagli effettuati dal mostro. Ritagli che per inciso mi hanno poi portato alla rivista in meno di un mese. Io ho utilizzato lo stesso metodo e criterio anche per approfondire la vicenda di Anna. Quindi ho raccolto tutti i dati disponibili che nel caso specifico, per fortuna, non erano un monte di documenti e quindi la segna stampa dell'epoca, pochi articoli, i dati trascritti da Paolo Cocchi nel suo libro e nell'intervista effettuata sempre da Cocchi alla ragazza, che ora ovviamente è una donna adulta. Una volta raccolti tutti i dati disponibili e redatto il report, ho cominciato l'approfondimento di ogni informazione acquisita. La mia ricerca è partita innanzitutto sull'analisi degli orari in cui avvenne l'episodio. Paolo Cocchi nel suo libro e su un articolo di Ucquem Mugello indica che il passaggio avvenne attorno alle 13.15 e che Anna venne lasciata a San Piero a Sieve più o meno alle 15. Bene, con questo primo dato io ho voluto vagliare orari e distanze per avere un quadro più o meno specifico e più concreto. Attraverso una veloce verifica ho quindi appurato che da via Bolognese a Firenze, ossia luogo in cui Anna prese il passaggio, a San Piero a Sieve, ovvero luogo dove venne lasciata Anna, il percorso era di circa 22 chilometri della durata di 30 minuti. Infatti anche Anna durante l'intervista trasmessa da Paolo Cocchi afferma che dopo un quarto d'ora dal passaggio ottenuto erano già nelle vicinanze di Pratolino. Pratolino si trova a metà tragitto fra via Bolognese e San Piero a Sieve e quindi effettivamente la durata del percorso totale si aggirava sui 30 minuti. Quindi attraverso un breve calcolo delle distanze il primo risultato che ho ottenuto è che è improbabile che Anna venne lasciata a San Piero a Sieve alle 15, dal momento che accettò il passaggio alle 13 e 15, a meno che non ricevette il passaggio ben dopo le 13 e 15, però questo di conseguenza potrebbe cambiare l'ordine ed il risultato degli addendi. A questo punto io credo che sia probabile che a distanza di anni la signora può non ricordare con precisione l'ora esatta in cui venne caricata e o lasciata e questa incertezza a mio avviso non ci dà modo di contestualizzare con precisione la tempistica ed eventualmente la criticità di questo evento. All'unimodo, appurata questa indeterminatezza, sono passate invece al dato certo, ossia quello che Paolo Cocchi ha descritto nel suo libro e nei suoi interventi online e televisivi. La notizia dell'invio della macabra missiva diretta dalla dottoressa della Monica venne resa pubblica in prima battuta dall'ANSA lo stesso giorno del passaggio ad Anna, giovedì 26 settembre 1985 alle ore 15 e 27 dal giornalista Pinorea, peraltro scomparso lo scorso anno. Questo è il secondo dato da cui ho proseguito la mia ricerca, informazione che ho reputato certa dopo aver letto il libro di Cocchi a pagina 211 nello specifico e il suo articolo del 17 luglio 2019 su Ok Mugello, reperibile online. A questo punto, dato alla mano, ossia notizia ANSA delle ore 15 e 27 del 26 settembre 1985, ho praticamente voluto verificare cosa accadeva generalmente in un frangente di questo tipo, perché io volevo capire cosa avviene tecnicamente e fornire eventualmente un supporto utile che potesse avvalorare l'ipotesi di un passaggio inquietante, perché in tal caso avrei di conseguenza ovviamente intrapreso un successivo approfondimento sul soggetto in questione. In sostanza io volevo rispondere le domande emerse dal mio screening. Abbiamo detto che l'ANSA, come descritto da Cocchi, diede la notizia alle 15 e 27 del 26 settembre 1985. Bene, ma quando trappelò la notizia stessa? Lo stesso giorno, poche ore prima? Oppure giorni prima? O meglio, il fatto che l'ANSA rese pubblica la notizia al 26 settembre significava effettivamente che nessuno sapeva prima di quella data? Ecco, questa è stata una domanda che mi ha particolarmente impegnata. Quindi, scandagliata la rassegna stampa dell'epoca, ho appurato che fra i primi a pubblicare la notizia del macabro in via, la dottoressa della Monica, furono il giornalista Roberto Chiodi per Epoca, Giorgio Sgherri per l'Unità, Mario Spezzi per la Nazione, Paolo Vagheggi per la Repubblica, Gian Antonio Stella per il Corriere della Sera. La notizia apparve su rivista i Quotidiani il 27 settembre 1985. Questo è l'articolo di Epoca redatto da Roberto Chiodi. Questo è l'articolo dell'Unità, redatto da Giorgio Sgherri. Il testo dell'articolo della Repubblica, redatto da Paolo Vagheggi. E questo è l'articolo del Corriere della Sera, redatto da Gian Antonio Stella. 27 settembre 1985. Quindi, per capire come avvenne all'atto pratico il lancio della notizianza e la pubblicazione sui canali di stampa, ho ritenuto che mi sarebbe stato utile mettermi in contatto con chi all'epoca l'aveva vissuta e riportata attraverso i giornali. E così ho fatto. Non potendo interpellare il dottor Sgherri o il dottor Spezzi, ho contattato il dottor Chiodi, stimato professionista che nel 1985 scriveva per epoca. Colgo l'occasione per ringraziare Roberto Chiodi per la sua premura ed attenzione alla mia ricerca. Grazie mille, Roberto. Roberto Chiodi mi ha spiegato nel dettaglio come avviene l'iter di acquisizione di un'informazione, la battuta dell'Ansa e la successiva ed immediata pubblicazione su riviste quotidiane. Immediata pubblicazione rispetto all'Ansa. Ecco, questo è un particolare importante. Chiodi mi ha innanzitutto confermato che sebbene l'Ansa lanciò la notizia il 26 settembre, non significava affatto che chi forniva scupa all'Ansa ne ebbe contezza il giorno stesso. Anzi, la rivista Epoca in realtà ricevette la notizia ben prima. E perché la trasmise all'Ansa solo qualche giorno dopo, ovvero il 26 settembre? Semplicemente perché la casa editrice, la Mondadori, doveva avere il tempo necessario per introdurre l'articolo nella rivista che era già in fase di realizzazione ed uscire in edicola subito dopo la battuta dell'Ansa. In sintesi, la notizia l'Ansa del 26 settembre servì di fatto ad attirare in edicola il giorno seguente quante più persone possibili. Roberto mi ha spiegato che il motivo di aver trasmesso all'Ansa la notizia il 26 settembre e non quando ebbe effettivamente ricevuto la grande novità fu una scelta dettata dai tempi canonici di pubblicazione della rivista. Mondadori in quel frangente doveva avere il tempo di impostare, impaginare l'ampio articolo e soprattutto di poter essere distribuito in edicola di via poco rispetto alla notizia battuta da l'Ansa. Roberto mi ha raguagliata così. Uscendo il 27 settembre, lo avrò saputo circa tre giorni prima. Da Roma avrò avvertito la direzione a Milano. Su notizie del genere presumo una assoluta riservatezza, ma in redazione a Milano almeno tre o quattro persone dovevano saperlo per decidere gli spazi, impaginare, preparare la nota per l'Ansa e farla trasmettere. Immagino che voi tutti sappiate che la produzione e la distribuzione di una rivista smistata a livello nazionale non può avvenire nell'arco di poche ore. Di fatto Epoca, già prima del 26 settembre, stava lavorando all'impaginazione dell'articolo, almeno tre giorni prima. Ossia il tempo necessario per Mondadori, per l'organizzazione editoriale, per le tipografie, per la produzione di mille di copie e per i canali di distribuzione su vasta scala nazionale. Anch'io propendo per l'assoluta riservatezza da parte delle redazioni giornalistiche e che la fuga di notizie non avvenne a Milano o a Roma, ma a Firenze, come vi illustrerò fra poco. All'unimodo, un dato è certo. La notizia fa però almeno tre giorni prima rispetto al giorno in cui fu resa pubblica attraverso l'Ansa. Almeno tre giorni prima. Ecco, questo aspetto durante la mia ricerca mi ha profondamente incuriosita, perché in sostanza il mio quesito a quel punto è stato, ma oltre alle redazioni giornalistiche, era possibile che anche qualcun altro avesse appurato la notizia prima che l'Ansa la rendesse nota? Voglio dire, dal momento che la notizia traperò tre giorni prima rispetto alla prima battuta dell'Ansa, c'era la possibilità che nel frattempo al di fuori del settore giornalistico ci fosse stato qualcun altro ad aver ricevuto la voce per vie traverse o via confidenziale? Ecco, questo è stato il mio crucio durante la ricerca e questo soprattutto ho voluto approfondire, perché a mio avviso fa la differenza. Sempre interpellando Roberto Chiodi, ho voluto quindi analizzare nel dettaglio proprio il particolare della notizia ANSA del 26 settembre. Come detto, Paolo Cocchi nel suo libro ci descrive che la prima ANSA sulla vicenda fu battuta il 26 settembre alle 15.27 dal giornalista Giuseppe Rea. Bene, per completezza di informazione per archivio mio personale, io volevo visionare il testo di quell'Ansa, anche perché ero estremamente curiosa del suo contenuto per altre ricerche parallele. Così ho chiesto a Roberto Chiodi se vi era la possibilità di recuperare tutte le notizie ANSA trasmesse in quella giornata relativamente al feticio inviato alla dottoressa della Monica. E lui me le ha fornite, tutte. Solo che cosa succede? Che con mio grande stupore realizzo che non fu il dottor Rea il primo a trasmettere la notizia ANSA. Giuseppe Rea nell'85 lavorava sì alla redazione Fiorettina dell'ANSA, ma non pubblicò per primo la macabra notizia, semplicemente perché la redazione dell'ANSA la ricevette in via esclusiva da Epoca. Devo dire che questo aspetto mi ha lasciato un po' frastornata, perché se la fonte dell'ANSA è stata effettivamente Epoca e non Giuseppe Rea, poteva voler dire che c'erano anche altri dati non ancora emersi e da analizzare. Allorché ho scandaliato orari e fonti delle ANSA e battute quel giorno che trattarono appunto la missiva pervenuta in procura. Questa è la prima battuta del 26 settembre 1985 che ho ottenuto e che riporto integralmente a beneficio di tutti. Mostro di Firenze, Epoca, ANSA, Roma, 26 settembre. Il mostro di Firenze ha inviato alla Procura della Repubblica la metà del pube che aveva asportato, dopo l'ultimo duplice omicidio, dal corpo di Nadine Moriò. Lo rivela, in una sintesi diffusa oggi, il settimanale Epoca. Il macabro pacchetto, da quanto Epoca ha appreso, è stato indirizzato al sostituto procuratore Silvia della Monica, che si occupò tre anni fa solo nella fase iniziale di uno dei duplici omicidi. L'intervento della donna magistrato deve essere rimasto impresso nella mente dell'omicida e non si può escludere che la vede come una vittima ideale. È per questo che la della Monica è da alcuni giorni circondata costantemente da quattro agenti. Il settimanale, ricordando che è la prima volta che il maniaco omicida si fa vivo, ipotizza che si sia ad una svolta nella vicenda. Accelererà il ritmo dei delitti o magari si toglierà la vita e sottolinea che finalmente c'è qualcosa su cui indagare. La busta di plastica che conteneva il reperto, la carta del pacchetto, l'inchiostro, il timbro di provenienza. Com, che sta per comunicato, CZ barra TSO, che è la sigla della persona che diede appunto a Lanza, 26 settembre 85, ore 15 e 03. Ripeto, 26 settembre 85, ore 15 e 03, non 15 e 27. E fu epoca a trasmettere l'informazione a Lanza, non il dottor Rea. Inoltre, Lanza successiva è questa. Mostro di Firenze, epoca 2, perché come mi hanno spiegato, ogni Anza aveva un numero progressivo e questa era la seconda. Anza, Firenze, 26 settembre, pervenuta diretta ad un magistrato di questa procura, una missiva anonima contenente una sostanza sulla quale sono state disposte analisi medico-legali tutt'ora in corso. Comincia così il comunicato dalla Procura della Repubblica di Firenze, firmato dal procuratore Raffaello Cantagalli, emesso oggi pomeriggio, dopo che è stata resa nota la sintesi del servizio che apparirà sul settimanale epoca. Allo Stato, prosegue il comunicato, non esistono elementi per ricollegare l'invio di età dimissiva alle indagini relative all'omicidio in località scopeti. Non lavorate di fantasia su questa vicenda, ha poi detto il procuratore della Repubblica nel corso di una conferenza stampa, perché ogni ulteriore notizia potrebbe pregiudicare la tranquillità e la sicurezza di un nostro collega. C'era un messaggio insieme al pacchetto? È stato chiesto al procuratore, non ho altro da dire, ha risposto. E la stessa frase l'ha ripetuta ogni qualvolta che gli sono state fatte altre domande sulla vicenda. Alla conferenza stampa di Cantagalli erano presenti anche i sostituti procuratori Francesco Florì e Paolo Canessa, i due magistrati che indagano sull'ultimo duplice omicidio del mostro, quello di Via Scopeti. 26 settembre 85, ore 19 e 24. Io non ho trovato traccia dell'Ansa delle 15 e 27, ma doni buon conto, la prima avvenne alle 15 e 03. E questo è un dato di fatto. Ora, è vero che 23 minuti potrebbero non fare la differenza, potrebbero, il condizionale a mio avviso è d'obbligo dal momento che non ve' certezza alcuna sugli orari del passaggio. Però la domanda è questa, ma prima di divulgare questa informazione, ossia che la prima Ansa sulla vicenda viene battuta alle 15 e 27, è stato verificato questo dato? Io me lo chiedo non certo per puntare il dito, intendiamoci, però questo è un dato sbagliato. Non me ne voglia Cocchi, il mio non è un attacco personale, però per dovere di cronaca debbo segnalarla questa anomalia. Anomalia che ho riscontrato casualmente e incappata in una ricerca che ritenevo interessante, questo dato è scatolito in poco tempo. Comunque, arrivata a questo punto della mia ricerca, sono stata assalita da mille dubbi e la domanda mi è sorta spontanea. Ma è effettivamente verosimile che l'uomo che diede il passaggio ad Anna non poteva in alcun modo aver appreso la notizia prima dell'Ansa e dei giornali? E di conseguenza mi sono posto un ulteriore quesito, ma per esempio tipografie e canali di distribuzione primari e locali potevano essere a conoscenza della notizia prima della notizia Ansa? Assolutamente sì. Perché vedete, prima ancora che le riviste siano fruibili in edicola da chiunque, le migliaia di copie vengono dapprima elaborate dalle tipografie, poi consegnate a distributori su scala nazionale per poi passare alla logistica di distribuzione locale. Quindi cosa significa? Che prima ancora che l'Ansa trasmisse la notizia, verranno sì persone che potevano accedere alla notizia stessa e che di fatto era già finalizzate a disposizione di diversi che potevano leggere, divulgare, riferire. Io interpellato addetti del settore mi hanno riferito che certo, le riviste potevano essere lette in anteprima, addirittura talvolta accadeva che durante il percorso di distribuzione logistica venissero sottratte, per cui di fatto era chi disponeva della rivista ancor prima che fosse in vendita. Ma comunque veniamo a un ulteriore aspetto. Come vi ho anticipato Roberto Chiodi ebbe questa notizia all'incirca il 23 settembre da una fonte ben precisa, un suo amico e collega fidato, famoso e stimato giornalista dell'epoca di cui non farò il nome perché non è più tra noi e quindi non ritengo opportuno citarlo dal momento che non posso essere certa che sarebbe d'accordo nel divulgare che fu lui a ricevere la soffiata e a mettere immediatamente a conoscenza il settimanale epoca nella persona appunto di Roberto Chiodi. La fonte di Roberto Chiodi aveva ottime conoscenze all'interno della procura di Firenze. Non entrerò nello specifico di informazioni riservate, ma dal mio punto di vista e soprattutto da quello di Roberto Chiodi che ha vissuto in prima persona quel frangente è proprio dalla procura di Firenze che filtrò la notizia del feticcio inviato alla della Monica. Trappelò ed arrivò a persone che vuoi per professione, vuoi per confidenza ad amici e parenti, in qualche modo potevano aver si appreso la notizia prima di leggerla a sue riviste quotidiane e prima ancora che venisse abbattuta dall'Ansa. Nonostante la procura di Firenze cercò indubbiamente di mantenere il più stretto riservo, a nostro avviso diverse persone seppero prima che la notizia divenisse di dominio pubblico. E veniamo quindi a un dato che a mia parere è il più significativo per l'ipotesi che la notizia della missiva diretta alla dottoressa della Monica sfuggì prima che l'Ansa la trasmettesse. Sapete cosa avvenne a Firenze proprio il 26 settembre 1985? Guarda caso proprio il 26 settembre. Il 26 settembre 1985 a Firenze vi fu la visita dell'allora ministro dell'interno Oscar Luigi Scalfaro. Scalfaro si recò a Firenze proprio per un incontro con la prefettura e magistratura per fare il punto della situazione sulle indagini relative al mostro di Firenze. Il 26 settembre 1985 Scalfaro incontrò in prefettura i sei sindaci dei comuni insanguinati dalla fuga del mostro e successivamente incontrò i magistrati che si occupavano dell'inchiesta, funzionali politici e ufficiali dei carabinieri. Oltre a fare il punto sulle indagini, cito testuale da un articolo dell'epoca, si trattò anche della taglia istituita proprio da Scalfaro dopo un incontro con il dottor Cantagalli. E secondo voi, in occasione dell'arrivo di Scalfaro, fra procura, prefettura, carabinieri, polizia e comuni locali, non si parlò anche e soprattutto di quella missiva pervenuta meno di 20 giorni prima? Ma si riuscì a mantenere il segreto? Se ne parlò e come? E fu proprio in quel frangente che la notizia traperò ed arrivò al giornalista amico di Roberto Chiodi. Roberto Chiodi, infatti, mi ha indicato È plausibile che prima dell'arrivo di Scalfaro si parlò del reperto e dell'opportunità di discuterne col ministro dell'interno e a quel punto si allentò la riservatezza sulla notizia. Di sicuro, puntini puntini, in questo caso ometto il nome della fonte di Chiodi, capì, questo amico di Chiodi, che c'era qualcosa nell'aria. Lui aveva un particolare fiuto e una particolare conoscenza dell'ambiente. Bravo a farsela raccontare e a sfruttarla. Certo, assolutamente plausibile, mi viene da aggiungere. È assolutamente probabile che nei giorni immediatamente precedenti all'arrivo del ministro dell'interno vi fosse un gran trambusto in procura, oltre al vociferare sulle questioni calde da affrontare, alla preparazione di documenti e fascicoli da consegnare alle riunioni indette con l'allora ministro dell'interno. Pensate solo a chi, fra segretari e assistenti di procura, prefettura, dovette per esempio preparare, stilare e fotocopere la miriade di documenti per quell'evento. E come impedir loro di percepire dati e informazioni e soprattutto come scansare la possibilità di farne cenno a parenti o amici anche se fidati. E infatti Roberto Chiodi ricevette la telefonata dal suo amico e collega tre giorni prima rispetto all'arrivo di Scalfaro a Firenze. Perché? E tre giorni prima dell'Ansa, eh? Perché? Perché in quei giorni evidentemente negli ambienti giudiziali si allentò sì il riservo sulla missiva arrivata alla della Monica e bastò un attimo o un minimo filtro affinché la notizia clamorosa non fosse più segretezza. Ora, io non voglio entrare in polemica per carità lungi da me. La mia è una critica, un appunto oggettivo. Io vi chiedo, ma obiettivamente si può sostenere che nessuno, tranne il mostro, un paio di giornalisti e gli inquirenti, era a conoscenza della notizia? Nessuno, tranne il mostro, un paio di giornalisti e gli inquirenti, ne era a conoscenza. Ma sulla base di che cosa? Sulla base di quale ricerche o approfondimenti si è stabilito questo? A distanza di 35 anni possiamo effettivamente ritenere che lo sapevano solo i magistrati, due giornalisti e il mostro? Io mi domando, nel caso specifico, ma anche in generale, ma è così che si intraprende un'indagine? Scusate, ma io me lo chiedo perché io ho sempre immaginato che prima di approdare determinate conclusioni, gli eventi, i fatti e i dati vengono esaminati, approfonditi. In questa circostanza è stato fatto? Perché io personalmente dubito fortemente che nessun altro sapesse all'infuori degli inquirenti e di due giornalisti. Oltretutto, scusate, ma dal momento che l'uomo dell'autostop non era né un inquirente né tantomeno un giornalista, cosa si vuole rappresentare? Che poteva essere il mostro? Perché, parliamoci chiaro, in soldoni, è questo il concetto che è arrivato alla gente, eh? Nessuno, tranne il mostro, un paio di giornalisti e gli inquirenti, ne era conoscenza. L'interpretazione di questa tesi non lascia margini di discutibilità, eh? Inoltre, quell'uomo si presentò agli inquirenti e quindi abbiamo il mostro di Firenze che si presenta spontaneamente dai magistrati col suo avvocato e niente, gli inquirenti non si resero conto di aver di fronte il serarchio e delle coppiette e lo lasciarono andare così, indisturbato. Personalmente, con tutte le premesse sopraccitate, io non credo che prima del 26 settembre della lettera a quel feticcio fosse la conoscenza solo gli inquirenti e un paio di giornalisti. Niente affatto. Io penso che la notizia traperò anche attraverso persone comuni che di fronte a una notizia così clamorosa non fecero altro che manifestarla a parenti o conoscenti, magari fidati, ma voi sapete bene che notizie di quel tenore in quei luoghi, in quegli anni, riuscirono a diffondersi alla velocità della luce. A mio avviso, l'uomo che diede il passaggio ad Anna era una persona che aveva da poco ricevuto una confidenza e che raccontò alla ragazza. Fu un gesto azzardato, sicuramente, e che pagò, tant'è che si presentò agli inquirenti accompagnati dal suo legale, finendo anche sui giornali, peraltro. Ma dal momento che gli inquirenti lo interrogarono, è verosimile concludere che venne lasciato a piede libero perché venne appurata l'imbarazzante circostanza, ossia quella di aver ricevuto una confidenza e di averla divulgata in maniera del tutto inappropriata. A mio parere, l'uomo, durante quell'autostop, vuole semplicemente fare colpo sulla ragazza e sbalordirla con una notizia che aveva ricevuto in via confidenziale, ma che anche altre persone sapevano. Solo che, a differenza sua, altri informati non si azzardarono a raccontare la prima sconosciuta presa a bordo per caso. Non so voi, ma io me la vedo la scena, no? Inquirenti che dicono Signor Rossi, mi invento un nome a caso, Signor Rossi, bell'ideona ha avuto a dire cose a una diciottenne, eh? E dall'altra parte il Signor Rossi che si dice maledetto me che ho voluto fare lo sborone. Ecco, perché signori, capita, eh, che a fare gli sboroni si rimane scottati. A mio avviso quell'autostop non è da ritenersi inquietante e non è utile ai fini dell'indagine. Oltre al fatto che trovo del tutto inverosimile che il mostro di Firenze potrà essere cotanto inetto da inciampare così goffamente. Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e a presto.